La magna via francigena, in cammino da Agrigento a Palermo, in collaborazione con la comunità radiotelevisiva italofona RAI Sicilia e l'associazione Amici dei Cammini Francigene di Sicilia nell'ambito dell'Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018 Un saluto da Loredana Cornero, Marco Pagani, Andrea Borgnino e Barbara Aurizzi Eccoci allora, ottava puntata, settima tappa, Prizzi Corleone È stata una bellissima tappa, anche questa, anche se tutto sommato il sole ci ha colto un po' forte molto presto per cui ci aspettavamo una bellissima discesa che dal mille metri di Prizzi ci portasse dritti per dritti a Corleone invece non è stato proprio così Ma ritorniamo un attimo a Prizzi, un paese che ci ha molto colpito e ci è molto piaciuto dove anche come sempre l'accoglienza è stata fantastica per mandarvi un'intervista ad un ragazzo che è Salvatore Greco e ci parla di una cosa veramente interessante Sì, è stato uno dei ragazzi che ci ha accolto, abbiamo scoperto che è uno del cuore dell'accoglienza in questa città l'abbiamo sentito al telefono per almeno quattro giorni, chiamato in tre modi diversi appunto, Totò Greco ci racconta di come si stanno approcciando e di quali sono i progetti della sua associazione appunto per riuscire a accogliere ancora più pellegrini e vendere Prizzi ancora più interessanti Sono ritornato a Prizzi dopo un paio di anni e con i miei amici abbiamo pensato di mettere su dei progetti per promuovere il nostro territorio quindi con associazioni come la nostra, Sicanamento di cui sono presidente cerchiamo di promuovere al meglio quello che c'è nei nostri territori e soprattutto mi preme sottolineare l'importanza di un sito archeologico che ormai ha bisogno di essere riportato alla luce Ippana è un sito archeologico appunto di importanza internazionale nel 1830 Francesco Crispi ha intuito che il sito di cui parlava Polibio nelle fonti storiche poteva essere questo di Ippana, che sorge sul monte San Lorenzo, monte Ippana e a seguito di scavi negli anni 50 Vincenzo Tusa ha confermato quelle ipotesi e da lì in poi purtroppo i tombaroli hanno depredato quella zona si è cercato di recuperare tramite un progetto fra il comune e la soprintendenza con degli scavi negli anni 90 nel 2006 ed è stato messo alla luce il teatro che poteva ospitare 3.000 persone e sono state trovate delle monete con il simbolo di Ippana, del cavallo a testimonianza di una civiltà di importanza strategica di collegamento fra il fiume Platani e il fiume Belice la cosa importante per noi è quella di riuscire a trovare dei fondi per renderlo fruibile con riferimento a quello che diceva Salvatore Greco ieri poi a Prizzi c'è stata anche l'occasione oltre che di vedere questo bel gioiellino piccolino ma molto ben curato che è il Museo Archeologico di Prizzi con all'ingresso queste maschere del loballo di Diauli che io mi aspettavo fosse qualcosa di carnevalesco e invece come vi racconto in realtà si riferisce alla Settimana Santa all'interno di questo piccolo museo ci sono anche dei reperti molto interessanti dal punto di vista archeologico in particolare una lamella in oro che si può vedere proprio attraverso una lente di ingrandimento che permette anche di distinguerne i contorni più fini che viene richiamata proprio, è stata recuperata negli scavi di Ippana che poi tra l'altro si può vedere qua di fronte letteralmente è una schioppettata, un tiro di schioppo ma stavo parlando di queste maschere che ci accolgono quando entriamo nel museo allora, il ballo di Diauli, tento un siciliano improponibile molto improponibile, guarda il ballo di Diauli diciamo il ballo dei Diauli che forse facciamo prima traduciamo ad ogni modo, ci è stato poi permesso anche di vedere un video che racconta e celebrava, insomma raccontava per immagini questa manifestazione siamo nella Settimana Santa, quindi sotto Pasqua il paesino è gremito, letteralmente pieno di persone all'interno di questi strettissimi vicoli e la processione sfila con abiti peraltro veramente sontuosi i ragazzi sono vestiti da angeli in maniera molto particolare con dei pizzi, dei merletti, degli ori veramente degli abiti ricchissimi e storici, di valore storico e poi la cosa interessante è questa danza continua di questi quattro diavoli che girano intorno alla morte la maschera della morte tra l'altro è una maschera in pelle storica che è proprio quella che vediamo all'ingresso del museo la cosa interessante di tutta la questione è che quando noi pensiamo alla morte siamo abituati a raffigurarla con una falce in mano il tristo mietitore, no? in realtà questa morte, così come è vissuta e interpretata da Prizzi ha in mano una balestra una balestra che fa ruotare rapidamente mentre balla intorno ai diavoli e che attraverso questa rotazione simboleggia la vita e la morte che girano una attorno all'altra con la corda tesa per scoccare il dardo che è la fine della vita che è poi il compito della morte a fare da limes da limite, da soglia che la morte ti permette di passare nel momento in cui scaglia la freccia poi non sto a dilungarmi su che cosa succede nella processione anche perché è bello scoprirlo i diavoli alla fine muoiono, ovviamente la morte non può morire perché è la morte come fa a morire la morte? e la processione si conclude con il Gesù Cristo risorto e la Madonna che si incontrano in centro attraverso un complesso gioco anche di coordinazione tra carri che vengono portati a spalla ovviamente perché le strade sono piccolissime ed è qualcosa che dal poco che abbiamo visto e capito comunque merita di per sé un viaggio secondo me, merita di essere vista noi siamo così informati anche perché abbiamo avuto l'opportunità di vedere un documentario che mostra tutto ciò perché appunto l'ospitalità di Prizzi è stata veramente come dire una grande ospitalità abbiamo conosciuto tantissime persone ieri sera hanno addirittura aperto questo piccolo teatrino forse era un auditorium proprio per, come dire, soltanto per noi per farci vedere questo documentario e infatti e proprio da lì è arrivato il documentario in realtà forse che fosse una chiesa addirittura c'erano fuori dei paramenti sacri esposti come fosse un museo sì, era una chiesa consacrata credo scusate ma è il troppo sole di oggi poi mi sembra sia già passato come dire una settimana invece era soltanto ieri e poi nel museo abbiamo avuto un incontro eccezionale perché abbiamo conosciuto un giovane ragazzo un americano, un gagnone alto alto capellone che viene direttamente da Dallas e che ha incontrato Prizzi su un libro e se n'è innamorato mi chiamo Davide Atkinson Dave Atkinson e sono un psichiatra americana che ha fatto un progetto qui a Prizzi per prendere l'arte qui a Prizzi sono venuto a Prizzi per la prima volta nel 2015 perché ho visto un libro e sono venuto senza, conoscendo nessuno non conoscevo nessuno e sono arrivato nel mezzo della nebbia nel mezzo del buio i siciliani erano così amichevoli mi hanno dato un sacco di amicizia un sacco di, come si dice il colore siciliano e ho ricevuto un benvenuto e abbiamo fatto l'amicizia subito dopo sono tornato due volte tre volte a Sicilia a Prizzi non conosco di due anni ho scoperto che i miei amici erano giù loro sentivano giù perché come vanno le cose con l'economia, con i lavori eccetera e ho deciso che devo fare qualcosa per rinforzare la cultura di Prizzi perché questo è un posto bellissimo ho deciso di fare un progetto dell'arte e ho portato tre artisti da Dallas, Texas qui a Prizzi, Sicilia per dipingere nessuno di loro conosceva nessuno in Italia loro non parlano italiano ma sono venuti e i prizzesi si sono piaciuti le stesse questa era la voce di Dave appunto il texano di Prizzi e la cosa bellissima è che lui cammina per la città lo salutano tutti quindi ormai è un personaggio e ieri noi arrivando a Prizzi abbiamo trovato uno di questi grandi murales dipinto appunto nella Prizzi Nuova perché ieri camminando ci siamo accorti che esiste una parte vecchia e una parte appunto più anni 50, 60, 70 ebbene davanti a una di queste case non bella un enorme muro è stato riempito come un murales quindi di sicuro un progetto culturale molto molto interessante tra l'altro troverete tutte queste foto se andate sulla pagina Facebook noi postiamo ogni giorno tutte le foto e quindi avete la possibilità di ammirare anche i murales di Prizzi fatti da questi artisti americani portati da Dave non ci è mancato una volta partiti il nostro pellegrino quotidiano però questo va detto si va detto il pellegrino quotidiano l'abbiamo incontrato veramente ormai eravamo quasi arrivati quindi l'abbiamo preso per un pelo questo pellegrino quotidiano lui era appena arrivato a Corleone noi stavamo entrando stavamo raggiungendo la nostra tappa finale a Corleone ci ha fatto un velocissimo scambio lui si chiama Pietro arriva da Roma e questa è la sua prima impressione velocissima delle sue tappe due tappe che ha camminato sulla Magnavia Francigena vengo da Roma secondo giorno bellissimo questo tratto che ho fatto un po' più asfalto sul primo la Magnavia Francigena mi è stata raccontata da amici con cui camminavo poi volevo andarci una nipote mi ha detto che si sposava e si sposa vicino a Grigento quindi mi è sembrata la cosa migliore e dirgli vabbè ci vengo a piedi sono da sola era il nostro pellegrino del giorno visto che ogni giorno appunto noi cerchiamo di farvi conoscere qualcuno dei pellegrini che incontriamo e parliamo un pochino anche del cammino descriviamo un pochino i paesaggi che abbiamo incontrato perché siamo partiti da Prizzi siamo partiti anche da una certa altitudine noi ce lo immaginavamo effettivamente tutto in discesa questa parte del cammino questi quasi 20 chilometri e invece no perché ci sono state salite e discese e poi appunto una bella discesona che ci ha portato appunto dritti dritti via Corleone ecco beh nonostante poi la guida ogni tanto ci indicasse anche qualche località ad esempio appunto Cozzo Spolentino Madonna della Scala noi magari ci immaginavamo qualche centro addirittura abbiamo anche a volte fantasticato su un caffè berci una bibita fresca no non c'era nulla erano delle come dire delle abitazioni c'era qualche casa ecco però non c'era proprio quello che magari noi potremmo così immaginare come un paese però proprio agli inizi di quella che è stata la nostra tappa abbiamo trovato un percorso che ci ha così abbiamo incontrato sul percorso un lago artificiale che è appunto il lago artificiale di Prizzi e beh per quanto sia un lago artificiale comunque come dire ha creato un bellissimo panorama perché c'è stato come dire un attimo dove c'era tutto questo verde con le montagne sia dietro di noi che avanti di noi e questo laghetto molto bello però sappiamo che vicino a questi laghetti anche come dire trovi un sacco di insettini e zanzarine e zanzarone anche abbiamo trovato anche tantissime piccole rane appena nate e poi vale la pena ricordare che appunto quello che a noi ci sembrava un lago in verità è qualcosa di molto importante per la provincia di Palermo infatti il lago di Prizzi è un lago di acqua potabile che contiene oltre 9 milioni di metri cubi e garantisce lui un altro lago artificiale quasi tutta l'acqua per la provincia di Palermo quindi una risorsa idrica importantissima che appunto a noi ha avuto un grande valore appunto nel paesaggio ma per chi abita qua è qualcosa di veramente importante e a proposito di risorse una cosa che forse non abbiamo ancora sottolineato abbastanza camminando è con quale continuità con quale costanza siamo accompagnati nel nostro percorso io ormai con Barbara e Andrea sto facendo oggi abbiamo chiuso i primi 60 km Loredano ormai invece passa i 130 beh non c'è stato neanche un'ora in cui non si vedesse da una parte o dall'altra una pala eolica allora c'è tanta gente giustamente perché ciascuno ha le sue ragioni che ritiene che ci sia un problema di carattere estetico ambientale paesaggistico un problema legato alle migrazioni degli uccelli che vengono spesso ostacolate quando non addirittura annientate nel passaggio attraverso queste pale spesso sotto queste pale si trovano proprio un bel po' di migratori morti in realtà quello che a me sembra di notare è una grande attenzione per il rinnovabile tra l'altro sono veramente centinaia le pale in funzione già adesso in Sicilia poi di pochi giorni fa di poche settimane fa la notizia che presto verrà dato il via dei lavori per ulteriori 2500 pale insomma la Sicilia sta veramente tentando a mio parere con coraggio una rivoluzione che va nella direzione del rinnovabile e anche da un punto di vista paesaggistico forse perché io da bambino ero appassionato di fantascienza ma percorrere queste colline con questi mulini del futuro bianchi che continuano a girare a me sembra di essere proiettato in uno scenario veramente di uno dei romanzi di quando ero bambino per quanto riguarda il lago che pure è una grandissima come ha detto Andrea risorsa diciamo però che per i pellegrini è stato un po' un problema perché ha interrotto il sentiero che passava lì e quindi adesso tocca fare un bel giro è un po' un periplo del lago e quindi si allunga un pochino ecco questo va detto però tutto sommato il percorso di 20 km è stato abbastanza tranquillo tranquillo tra l'altro abbiamo camminato per la prima volta fino ad oggi abbiamo camminato su tratture abbiamo camminato su strade statali oggi abbiamo tanto scoperto un ponte che potrebbe essere o romano o medievale l'abbiamo scoperto davanti a uno degli numerosissimi collegamenti che facciamo con le varie radio in questo caso era un collegamento con la radio svizzera in lingua italiana ebbene dopo questo ponte per magia abbiamo camminato penso per 5-600 metri su una strada romana o quantomeno su una strada medievale fatta completamente armata con la pietra il basolato sì o una pietra simile è la prima volta che ci troviamo su una strada simile e lì hai veramente la sensazione di un collegamento nel tempo di veramente di ripercorrere le famose antiche vie perché appunto un tratturo in mezzo alla strada non sai mai quando potrebbe essere stato aperto quel tipo di strada è lampante che è una strada che arriva da tantissimi anni fa ed è ancora lì non segnalato tra l'altro neanche la guida ne lo cita secondo me sarebbe importante quantomeno segnalare il fatto che ci si ritrova su una vera antica via ecco oggi però c'è stata anche qualche titubanza per quanto riguarda la segnaletica perché ci sono state un paio di volte in cui non dico che ci siamo persi però abbiamo avuto un po' di esitazione a capire quale potesse essere effettivamente la strada noi ricordiamo lo stiamo ripercorrendo all'incontrario per cui in questi giorni abbiamo come dire anche sviluppato questa capacità di leggere le indicazioni di un cammino ecco all'incontrario e non abbiamo parlato oggi come dire io ho fatto un collegamento con quella che poi è la mia radio che è Radio Capodistria e mi ha chiesto cos'è che vedi in questo momento di fronte a te e io ho detto un asino ecco c'è stato l'incontro con l'allevamento degli asini e ho visto dei cavalli mi è capitato appunto di vedere dei cavalli però una cosa che mi ha sorpreso è che effettivamente per buona parte appunto di questo cammino a parte il momento in cui abbiamo trovato i contadini i trattori c'è stato c'è sempre silenzio cioè quando come dire tu provi a concentrarti ad ascoltare quello che si sente il più delle volte sono i campanacci delle mucche il rumore delle mucche e appunto altri animali da pascolo però effettivamente qui c'è molto 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 silenzio e il silenzio devo dire che è un forte motivatore alla riflessione noi spesso chiacchieriamo insieme camminando poi ci sono dei momenti in cui uno si va un po' più avanti si lancia quell'altro rimane indietro a fare una foto ci si sfilaccia un po' e sono i momenti in cui tra il vento il sole gli alberi insomma veramente la stanchezza che aiuta che abbassa le difese anche mentali è una fonte di riflessione molto interessante a me torna in mente tra l'altro il pellegrino che sentivamo prima questo romano che si sta facendo il viaggio fino ad Agrigento ed è una storia molto bella alla fine il fatto di andare a vedere il matrimonio di tua figlia a piedi è un modo per celebrarlo per fissarlo forse anche nel tuo ricordo nella tua memoria ecco quello che io mi porterò dietro da questo viaggio è la sensazione fortissima che nessun pellegrino che ogni pellegrino abbia una storia da raccontare e ogni storia merita di essere raccontata questo è molto bello è molto vero anche per noi tutto sommato che siamo qui per lavoro anche ma anche noi avremo e abbiamo e ce la raccontiamo a volte anche tra di noi siamo arrivati a Corleone e proprio di queste cose ci ha parlato anche padre Luca padre Luca è del comitato di accoglienza di Corleone e lui si è presentato così e devo dire che ci ha fatto molto riflettere sono uno dei membri di questo comitato che è nato praticamente contemporaneamente all'inizio della via francigena di questa esperienza nuova che ha avuto come finalità quello di offrire ai pellegrini una ospitalità anche per far conoscere meglio il territorio soprattutto perché la finalità del comitato è far conoscere una Corleone diversa della Corleone conosciuta soltanto per le questioni di mafia certamente c'è questo fenomeno che ha un po' marchiato il nome di questo paese ma il comitato si prefigge proprio la possibilità di far conoscere tanti altri aspetti culturali architettonici naturalistici che abitano questo paese questa esperienza di accoglienza la cosa più bella è vedere la varietà delle persone che passano gente che viene non soltanto dalla Sicilia ma dall'Italia anche dall'estero proprio la scorsa settimana ho avuto contemporaneamente un californiano un'australiana una calabrese che vive in Australia un'olandese quindi esperienze di grande ricchezza ecco una cosa che potrei dire molto bello è accogliendo queste persone in modo molto sobrio nella struttura parrocchiale non c'è nessuna che sia banale ecco la bellezza di questa esperienza di accoglienza è incontrare tutte persone belle belle cosa intendo dire gente originale gente che ha una sua storia nessuno delle quali banali ecco quindi è un'esperienza arricchente non soltanto spero per loro è quello che mi auguro ma anche per noi che facciamo questa esperienza di accoglienza e quello che abbiamo ascoltato è la padre Luca che parla di accoglienza un'accoglienza che sembra spartana ma è verità il vero spirito delle vie francigene la cosa interessante è che abbiamo scoperto ancora un altro tipo di accoglienza appunto un'accoglienza fatta dai ragazzi ed è un'accoglienza che vuole essere una scuola di vita soprattutto per loro per iniziare a immaginarsi un lavoro per iniziare a immaginarsi un modo di approcciare al territorio con questi stranieri che arrivano e di sicuro portano delle storie portano della cultura la storia di Dave è incredibile da questo punto di vista e abbiamo incontrato una professoressa Anna che ci racconta come si è inventata un progetto per dare accoglienza e inserire in questa accoglienza i ragazzi delle scuole di Correone e dare anche un senso all'alternanza scuola-lavoro di cui tanto si parla in Italia Bene, io sono Anna insegno al liceo di Correone e quest'anno ho pensato di avviare questo progetto di alternanza scuola-lavoro con i ragazzi della terza L il perché di questo progetto è anzitutto dare l'opportunità ai ragazzi di Correone ma del territorio di ripensare proprio la storia un po' il paesaggio la natura le opportunità che il nostro territorio offre in modo tale da sollecitare gli stessi ragazzi a prospettare anche prospettive di sviluppo sostenibile e di rivalutazione del territorio E quello che abbiamo ascoltato è Anna appunto io conosco l'accoglienza scuola-lavoro dal punto di vista anche professionale mi occupo in Rai del progetto Porta Aperte arrivano in continuazione i ragazzi ma avrei immaginato che qualcuno in questo punto della Sicilia potesse immaginare di far fare ai ragazzi un'esperienza in fondo così forte perché le storie che si incontrano sulla via sono tutte forti ed è anche per riuscire a dare un'immagine diversa di questa città tutte le persone che abbiamo incontrato qua a un certo punto dicevano vogliamo dare qualcosa di diverso vogliamo dire qualcosa di diverso beh poi appunto anche a scuola poter parlare di una una magna via francigena sicuramente insomma aiuta anche molto meglio a capire la storia a capire quello che poi è il passato di un popolo e anche poi fondamentalmente è quello che è il nostro che è il nostro presente ecco e oltre al fatto appunto che magari come anche ci raccontava Anna così molto spesso a questi ragazzi fa un po' sorridere questa idea del pellegrino reputano quasi dei pazzi all'inizio questi che prendono e camminano sotto al sole per tutto questo per tutto questo tempo e questo percorso ecco oggi appunto noi siamo a Corleone di cose da visitare che potremmo fare comunque ce ne sono già quando siamo entrati a Corleone che comunque è questa località molto grande rispetto a quella in cui abbiamo camminato comunque nei giorni passati perché se ricordo bene c'è un centro di 15.000 persone 15.000 abitanti e beh allora ad esempio noi siamo stati come dire una delle cose più suggestive che abbiamo visto quelli che vengono chiamati faraglioni di Corleone che sono i resti delle due rocce soprana e sottana noi stiamo appunto facendo l'incontrario questo cammino e ci hanno accolto e invece non abbiamo ancora visto quella che viene chiamata pietra miliare cioè l'unica appunto rinvenuta in Sicilia che apparterebbe appartenente praticamente della stessa strada consolare romana e praticamente questa pietra segna 57 miglia c'è 57 miglia praticamente da Corleone a Grigento e poi insomma di cose da visitare oggi ne avremo e ve le racconteremo ci ha raggiunto anche Salvo Balsamo che è un amico dell'associazione La Magna Via Francigene che lavorerà con noi ma prima di chiudere io vorrei fare un saluto è andato via Sergio mezzatesta il tecnico siciliano salutiamo lui diamo gli auguri perché oggi è il suo anniversario di immatrimonio auguri Sergio da tutti noi e salutiamo i suoi due bambini due gemelli di sette anni quindi questo era quello che volevo dire un saluto a Sergio da parte di Andrea Borgnino Marco Pagani Loredana Cornero e Barbara Orizzi l'appuntamento è per domani sempre in cammino sulla via Magna Francigena La Magna Via Francigena in cammino da Agrigento a Palermo in collaborazione con la comunità radiotelevisiva italofona RAI Sicilia e l'associazione Amici dei Cammini Francigeni di Sicilia nell'ambito dell'Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.